e buon salve people bentornati sul mio canale io sono sempre il vostro ruolker di fiducia eccoci oggi all'immancabile appuntamento di xbox news con domenica sempre polemica rassegna dell'informazione verde crociata farcita con disagio e croccantezza partiamo immediata subito parlando di giochi e parliamo di game pass perché ci sono state delle aggiunte alcune già uscite non so se vi ne siete accorti e altre annunciate per i prossimi mesi la prima quella già uscita è call of the wild di angler un simulatore di pesca molto particolare molto carino molto interessante che non raggiungerà mai i livelli di ruolker fishing simulator ma in qualsiasi caso titolo assolutamente adorabile e anche estremamente rilassante ci ho fatto una bella partitina troverete il video ovviamente sul secondo canale il secondo invece è headbangers rhythm royale che cos'è è una sorta di party game con anche degli elementi rhythm game appunto molto carino dove tutti sono dei piccioni quindi già il disagio si preannuncia notevole uscirà il giorno 31 ottobre su game pass e quindi tenetelo d'occhio preparate i manettini belli carichi perché ci sarà da fare a sportellate sia in community ma anche nel salotto di casa vostra con i vostri amici continuiamo parlando di giochi parliamo di lies of p il titolo che uscirà il giorno 19 settembre su game pass al day one il titolo che ha un souls like come abbiamo avuto modo di vedere e come potrete vedere voi perché c'è ancora la demo disponibile sul microsoft store è stato rivelato abbia tre finali completamente differenti a dirlo è direttamente lo sviluppatore che asserisce proprio che senza vedere i tutti e tre i finali l'esperienza non possa essere giudicata come un'esperienza completa questo significa che all'interno proprio della storia ci saranno alcuni snodi focali che cambieranno il corso di tutta la trama a seconda delle bugie che diremo perché alla fine è una reinterpretazione diciamo della favola di pinocchio ecco in chiave steampunk souls like come connubio posso capire possa essere abbastanza particolare comunque interessante che ci siano anche delle svolte di trama aspettiamo il giorno 19 settembre per metterci le manacce sopra io sono una pippa nei souls like quindi morirò malissimo ma tutti voi che lo state aspettando ne sarete sicuramente molto contenti e adesso parliamo di baldur's gate 3 sì perché è stato comunicato finalmente un periodo una finestra di lancio anche per xbox a dirlo sono proprio gli sviluppatori di larian che hanno cercato di rincuorare la community anche dal loro punto di vista è stata confermata la release entro la fine del 2023 più nello specifico in un lasso di tempo che varia fra settembre e novembre quindi non a ridosso dell'ultimo mese quello delle vacanze di natale del periodo delle festività ma un pelino prima potrebbe arrivare anche settimana prossima per quanto ne sappiamo non ci sono delle date precise comunque questa è la finestra di lancio ufficiale vi ricordo perché poi io lo dico in vari video però non tutti seguono tutti i contenuti il titolo proprio di larian baldur's gate 3 arriverà completo di tutte le feature inclusa la famigerata cooperativa in split screen su xbox serie x su serie s uscirà completo tranne la cooperativa in split screen sulla quale gli sviluppatori ci stanno ancora lavorando quindi verrà aggiunta in maniera postuma non sarà un non la troverete mai la split screen su serie s sarà una questione di tempo probabilmente oltre 2023 mi ha dato modo di capire insomma comunque aspettiamo che esca anche su xbox a parte che io non so come farò a giocarlo perché con tutta la roba che esce sul pass nei prossimi quattro mesi e con starfield in canna addio alle armi però in qualsiasi caso nel caso in cui lo stiate aspettando tenete duro arriva fra pochissimo ed ora un paio di informazioni in merito a xbox in generale e al microsoft gaming tutto ci sono delle informazioni croccantine le racchiudiamo in un blocco unico che poi almeno ci avviamo verso la parte conclusiva bella pregna di informazioni la prima riguarda la rimozione totale dell'offerta un mese a un euro di game pass che era stata trasformata in un euro per 14 giorni su game pass adesso c'è più niente hanno tirato via tutto basta niente promo niente trial niente tutte cose se volete entrare nel mondo di game pass o avete i codici amico invito referral che si possono fare anche tramite pc game pass cioè chi è abbonato a pc game pass può mandare delle settimane di prova a coloro che vogliono provarli ma l'offerta a un euro non c'è più proprio basta chiuso capitolo arrivederci e buonanotte se volevate provarlo il treno ormai un'altra novità però ha attirato la mia attenzione in questa settimana perché è stato comunicato praticamente in maniera ufficiale perché sono dei job listing su linkedin che esista un nuovo reparto una nuova divisione del microsoft gaming che si chiama xbox gaming ai team questo significa che ci sia al loro interno una divisione dedicata per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale quindi in stretta collaborazione con chat gpt e quindi tutti gli investimenti che ha fatto microsoft nell'intelligenza artificiale adesso saranno portati anche all'interno dello sviluppo dei videogiochi infatti questa nuova divisione è proprio dedicata a questo scopo preciso non sappiamo ovviamente se questo abbia a che fare con qualche progetto nello specifico alcuni hanno detto ah sì sicuramente riguarderà il progetto di kojima ma non lo so io personalmente non ne ho la minima idea sicuramente l'implementazione dell'intelligenza artificiale in maniera strutturata ecco non dargli in mano un gioco fai tu non ti preoccupare perché insomma ci sono poi tutti dei controlli da fare per ciò che produce un'intelligenza artificiale speriamo che comunque porti vantaggio agli sviluppatori vada ad alleviare il carico di lavoro magari quello più oneroso quello più menoso in modo che la parte più creativa resti in mano a degli sviluppatori competenti e consapevoli di ciò che stiano facendo quindi molto bene aspettiamo di vedere ulteriori sviluppi in futuro ed ora mega blocco finale per quanto riguarda i titoli di zenimax media quindi bethesda nella fattispecie chiamiamoli bethesda anche se poi non sono solo di bethesda partiamo con machine games ovvero il team padre di wolfenstein della saga di wolfenstein che ora è al lavoro su indiana jones il titolo appunto che vede il professor jones come protagonista di tutta questa avventura sta andando avanti benissimo dalle parole di todd award dicendo che sia ora sostanzialmente a metà del suo sviluppo già sapevamo che ci stesse giocando stesse seguendo il progetto perché è il capo è il direttore di produzione sostanzialmente todd award in questo momento per quanto riguarda indiana jones ma ci sia almeno un orizzonte temporale ecco ci stanno lavorando da alcuni anni il fatto che siano più o meno a metà strada è già un buon segno certo rispetto a quando uscì il teaser trailer sembrano passate delle ere geologiche però comunque è un'informazione che andava data per contestualizzare un po l'uscita di questo titolo benissimo così non è detto che machine games non stia lavorando anche a qualcos'altro il terzo capitolo di wolfenstein per esempio quindi staremo a vedere come si muoverà il tutto la seconda informazione riguarda redfall perché ci sono degli aggiornamenti no 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 non c'è ancora la patch a 60 frame per secondo ma è interessante una dichiarazione di pietro inesi al secolo ptains ptains il responsabile appunto di bethesda per quanto riguarda il marketing insomma una figura di spicco del mondo di bethesda all'interno di un'intervista ha detto che no redfall non verrà abbandonato al suo destino stanno lavorando la patch dei 60 frame e siano assolutamente intenzionati a correggere redfall per farlo risorgere sostanzialmente ha portato all'interno dell'intervista diversi esempi di come anche all'inizio di elder scrolls online piuttosto che fallout 76 ebbero dei lanci non estremamente entusiasmanti ecco e che poi piano piano siano stati recuperati raddrizzati e fatti arrivare in mano all'utenza con tutti i contenuti che dovevano esserci seguiti poi negli anni successivi tant'è che appunto ancora entrambi i titoli sono giocati di elder scrolls online continua ad avere espansioni una è uscita praticamente tre mesi fa quindi bene che ci stiano ancora mettendo sopra le mani e che non sia abbandonata al suo destino perché insomma c'è anche gente che si è preordinata la biteback edition e aspetta tutta una serie di contenuti quindi benissimo mantenete le promesse grazie e a proposito di elder scrolls parliamo di elder scrolls 6 perché il nostro volpe uardo al secolo todd award ha confermato che si stiano iniziando a lavorare su di elder scrolls 6 che abbia abbandonato diciamo la fase concettuale diciamo la preproduzione e che siano in early development quindi sia lo sviluppo ai suoi albori non ci sia ancora granché eccetera eccetera ma il nostro todd ha detto che il team sia comunque super concentrato su starfield perché si è in early access settimana prossima arriverà sul game pass e tutti coloro che hanno comprato la versione normale ma ci siano ancora molte moltissime cose da fare per starfield a parte i dlc come shattered space che è quello che era incluso nella premium edition ma tutta una serie di contenuti aggiornamenti rifiniture eccetera eccetera che verranno fatte nel corso dei prossimi mesi dei prossimi anni perché anche su skyrim insomma i lavori sono stati dilazionati poi nell'arco dei mesi e degli anni successivi alla release benissimo così bene che incominci non mettere le mani anche su di elder scrolls 6 che è la prossima produzione bethesda ma comunque il grosso sia ancora addosso a starfield e ci mancherebbe altro ottimo e infine qualche informazione su starfield innanzitutto grazie a tutti per coloro che hanno apprezzato la mia opinione che appunto non voleva essere una recensione e che per questo motivo appunto non sia stata proprio condivisa da tutti ma che me frega a me questa è la mia opinione ognuno si farà la sua ecco il consiglio è fatevi la vostra opinione giocando a starfield non andate a vedere il metascore questo ha detto così ha detto così è lì sul game pass costa 10 euro giocatevelo fatevi un'idea vostra sapete io non approvo moltissimo i numeretti per identificare se un gioco è bello o no o se vi possa piacere o no perché sono esperienze come sempre personali detto questo c'è un'interessantissima novità per starfield perché il giorno stesso della release dell'early access i modder hanno già fatto il loro lavoro e infatti su pc è già disponibile una mod non ufficiale non riconosciuta da bethesda che implementa al posto dell'fsr ovvero la tecnologia di upscaling di amd il dl ss e l'x ess basate sulla tecnologia nvidia e intel questa nuova modifica questa nuova mod sicuramente potenzia a dismisura il comparto tecnico di starfield ovviamente ricordo che le mod sono supportate sia su pc che su xbox l'avevano già detto gli sviluppatori starfield sarà il paradiso dei modder dissero e quindi ci aspettiamo un'estensione un'apertura alle mod stile skyrim ci saranno quelle ufficiali e non ufficiali su pc perché si può mettere mano direttamente inserire le mod in maniera tradizionale mentre su xbox si presume appunto che ci sia come al solito da passare il processo di approvazione di bethesda quindi ci saranno solo le mod ufficiali così come fu sulla special edition sull'anniversario edition di skyrim poi sicuramente ci sarà il creation club tutte le mod a pagamento e così via dicendo però ottima questa iniziativa non ci sono ancora delle date di rilascio certe per le mod su console ultima informazione sempre relativa alle mod e sempre relativa starfield pietro inesi appunto pittains si è lasciato sfuggire all'interno di un'intervista su x fire che ci sia la possibilità tecnicamente anche di creare dei nuovi mondi quasi andando a sfidare i modder dicendo potrete arrivare fino a quel livello di personalizzazione l'ha lasciato intendere non è che ha detto si potrete creare i vostri mondi su starfield ha lasciato intendere questa cosa chissà stiamo a vedere che cosa creerà la community dei modder sull'ultima fatica di bethesda detto questo ragazzi grazie mille per l'attenzione fino alla fine del video grazie a tutti coloro che hanno supportato il sito anche in questi giorni scusate sono stato assente un po dei social ma con una maratona di 12 ore di starfield è stato un po complicato il giorno di venerdì ma in qualsiasi caso grazie davvero a tutti per essere qui come sempre iscrizione like campanellina per non perdervi nessuna delle informazioni relative all'ecosistema di xbox andate sul sito runwalker.it per non perdervi nessuna delle news e detto questo non mi resta altro che augurarvi buon divertimento gamers e alla prossima